e tra l'altro potete acquistare qua in parte al banchetto del merchandising c'è tutta la linea primavera estate dei Folkstone potete acquistare il sacchiello e la paletta per andare al mare comodamente dei Folkstone c'è anche la canoa e le pille questo pezzo tratta di un argomento un po' inflazionato perché è stato detto e ridetto e ridetto però perchè la gente continua a parlare e non si fa i cazzi suoli noi così siccome viviamo qua abbiamo constatato il problema ci abbiamo scritto una canzone Nebbia No è appuratoosta lontano con il mondo io non mi avevo paese ai timo chepello mi per Pag. si voli di due a me mangi, sono volto la realtà Pag. si voli a me mangiare, se voli a me mangiare Il numero di due razzi di bellissima Sono un'occhiata di tuoncora Ho sempre fatto il estroppo Ciao a tutti, ciao a tutti Sono un'occhiata di nonostrapposte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti